Chi ha paura del lupo? Tutti! I tre porcellini, il lupo e i sette capretti. La funcetta rosso. Raccontiamo insieme le favole del lupo? E senza fare le parole? Se hai tra i sei e i dieci anni, ti invitiamo a giocare con noi per raccontare le favole del lupo, usando la musica classica i movimenti del corpo e i rumori. La nostra associazione offre un laboratorio di presentazione e lo spettacolo interattivo a ciascun bambino che vorrà partecipare. È un'esperienza da non perdere! Aiutaci a portare la magia della musica ai bambini della nostra comunità!